Henry Bergson La riflessione di Bergson si origina dal tentativo di difesa della creatività e della libertà della coscienza. Per fare ciò, Bergson mostra la differenza tra il tempo dell'esperienza concreta e il tempo della meccanica. Il tempo della meccanica è una serie di stanti identici in sequenza, spazializzato. Come il tempo dell'orologio è un insieme di posizioni delle lancette nello spazio del quadrante. È reversibile e si può tornare indietro e ripetere l'esperimento. Secondo Bergson, il tempo della meccanica non coglie l'esperienza concreta. Il tempo dell'esperienza concreta è durata ed è fatto di istanti ripetibili e diversi gli uni dagli altri. Nella durata il soggetto vive il presente insieme al ricordo del passato e all'anticipazione del futuro. È un tempo che cresce conservando se stesso come una fusione di istanti. Nella scienza e all'interno del tempo spazializzato è quindi possibile prevedere l'evento successivo a partire dal precedente. È possibile quindi determinare le cause. Secondo Bergson, questo procedimento è impossibile per la coscienza perché è caratterizzata dalla durata e non esistono in essa istanti identici, dove nulla è identico e nulla è prevedibile. L'uomo è libero. La distinzione tra durata e tempo spazializzato si riflette nella distinzione tra coscienza e materia. Secondo Bergson, la coscienza o spirito in realtà è interna, sempre nuova, è indivenire. La coscienza è memoria, ovvero durata, è un ricordo utile all'azione. La materia è invece realtà esterna, meccanica e determinata. È corpo che agisce attraverso la percezione, cioè la selezione di ciò che nella memoria è utile per orientare l'azione. Anima e corpo, materia e coscienza sono due poli della stessa realtà e non due realtà separate, come invece in Cartesio. Bergson rifiuta di pensare all'evoluzione della vita in modo deterministico. L'evoluzione non avviene né in base a causa necessarie, cioè meccanicistiche, né in vista di una causa finale, cioè finalismo. Riconosce piuttosto un'evoluzione creatrice, ovvero una continua creazione libera e non predeterminata. La materia costituisce il punto di arresto e l'ostacolo di questo slancio vitale. Durante l'evoluzione le forme di vita hanno adottato due diverse soluzioni al problema della sopravvivenza. L'istinto è l'intelligenza. L'istinto è l'utilizzo e lo sviluppo di mezzi organici o parti del corpo. Ed è inconsapevole, è ripetitivo ed ereditario. L'intelligenza è invece la produzione di strumenti artificiali o tensili. Ed è propria dell'uomo, è creativa e consapevole. Non conosce le cose, ma ha i rapporti tra le cose attraverso i vari concetti. L'intelligenza produce la scienza. Secondo Bergson, né l'istinto né l'intelligenza sono in grado di conoscere la realtà. Soltanto l'intuizione è in grado di farlo. L'intuizione è l'intelligenza che torna consapevolmente nell'istinto. È lo strumento della metafisica, ed è quindi l'essenza della realtà. Bergson analizza la morale e la religione, infine, ritenendo che siano il soppramento di anima di cui è bisogno l'uomo moderno troppo concentrato su scienza e sul dominio della natura. La morale ha due origini. La pressione sociale è lo slancio d'amore. La pressione sociale è propria delle società chiuse e ha come fine la loro conservazione. Lo slancio d'amore è propria delle società aperte e porta alla dilatazione della vita come slancio d'amore. Parallelamente la religione si distingue in statica e dinamica. La religione statica tranquillizza l'uomo attraverso miti. In quella dinamica l'amore per Dio è l'amore per gli uomini che spinge all'azione.